Antonella Fiordelisi lo fa in diretta al Grande Fratello VIP 2022, poi crolla nella notte e si lascia andare ad un amaro sfogo. Antonella Fiordelisi si lascia andare ad una dichiarazione importantissima in diretta nei confronti di Edoardo Donna Maria. Dopo la puntata del Grande Fratello VIP 2022, tuttavia, è crollata nel cuore della notte lasciandosi andare ad un amaro sfogo tra le lacrime. Dopo un duro confronto con l'ex fidanzato Gianluca Benincasa, Antonella non ha nascosto il proprio malessere dovuto all'affetto sincero che prova nei confronti di colui che, prima di essere stato il suo fidanzato, è stato il suo migliore amico. In lacrime, Antonella Fiordelisi, in confessionale, parlando con Alfonso Signorini, ha ribadito di non essere più innamorata di Gianluca Benincasa e si è poi lasciata andare ad un'importante dichiarazione d'amore nei confronti di Edoardo Donna Maria. Antonella Fiordelisi, sono innamorata di Edoardo Donna Maria. Poi crolla tra le sue braccia Gianluca Benincasa e è entrato nella casa del Grande Fratello VIP 2022 dichiarandosi ancora innamorato di Antonella Fiordelisi che, a detta del 37enne, sarebbe stata manipolata dal padre, entrato nella casa per farle una sorpresa in cui ha speso belle parole.